Si scalda Foggia, un'intera città pronta a stringersi attorno ai rossoneri per allungare quanto più possibile il sogno e perché no provare ad arrivare fino in fondo. Per farlo però bisognerà procedere per gradi e il primo ostacolo sulla strada della squadra di Dele Rossi si chiama Potenza. Ai Lucani domani alle 18 i rossoneri contenderanno il visto che porta alla fase nazionale degli spareggi per la Serie B. Due risultati su tre per Peterman e compagni ma nessuna voglia di fare calcoli. Il Foggia che domani scenderà in campo allo Zaccheria dovrà fare come suol dirsi comunque la partita perché provare a speculare sarebbe rischioso ed oltretutto non pare essere nelle corde della squadra di Dele Rossi. Nel frattempo si scalda la città. Foggia sembra tornata a vivere con entusiasmo la sua passione per i colori rossoneri e se la città si scalda come sa fare in queste occasioni nulla può essere precluso. La Foggia Ultras ha tappezzato la città di striscioni. In ogni angolo compaiono quelli che hanno un unico frame per il Foggia. Tutti allo stadio. L'invito dunque è di popolare lo Zaccheria, riempirlo come un uovo e trasformarlo in un Luna Park trepidante e festoso. Al resto ha pensato il club che ha realizzato un video con la voce narrante di Foggia e della Capitanata di tre rossoneri Schenetti, Di Pasquale e Peterman. Partita ieri intanto la prevendita dei tagliandi per gli abbonati diritto di prelazione fino alla mezzanotte di oggi ma contestualmente è stata avviata la vendita libera. Oggi pomeriggio l'allenamento di rifinitura agli ordini di Rossi subito dopo il punto della situazione del tecnico riminese in conferenza stampa.